E' stata fissata per il prossimo 7 ottobre al Tribunale di Gela l'udienza straordinaria sul ricorso cautelare presentato dall'Avvocato Luigi Fontanella in rappresentanza di 500 cittadini gelesi che chiedono il fermo degli impianti della raffineria Eni, dell'attività estrattiva e le bonifiche per impedire ulteriori danni ambientali. L'audizione è stata calendarizzata dal giudice Virgilio Dante Bernardi. Sarà ascoltato il responsabile del settore ambiente e territorio dell'ex provincia regionale di Caltanissetta, adesso libero consorzio, per verificare lo stato attuale delle bonifiche. Se la ricorso dovesse essere accolto, le aziende del gruppo Eni, operanti a Gela, rischierebbero, tra le altre cose, di dover sborsare oltre 2 miliardi di euro per le bonifiche. L'Avvocato Luigi Fontanella è anche il difensore dei genitori di una trentina di bambini malformati che in assedi civile hanno chiamato a giudizio Leni, quale presunto responsabile delle patologie dei propri figli. In attesa della costruzione di una green refinery per la produzione di biocarburanti, gli unici impianti attualmente in marcia nel petrolchimico, dopo lo stop per la crisi del settore deciso due anni addietro, sono la centrale termoelettrica, il depuratore biologico che lavora anche i reflui cittadini e le utilities con lo supporto dei servizi di sicurezza. Nella sua istanza Fontanella chiede anche la nomina di un custode cui affidare le aree da risanare con ordine di bonifica totale e la perimetrazione nella piena di Gela delle superfici in cui operano i pozzi di estrazione del petrolio e dei terreni attraversati dagli oleodotti dell'Enimed, lungo i quali si sono verificate perdite inquinanti di prodotto. Ultimamente una commissione di cinque periti, tra cui due di fama internazionale, nominata dal Tribunale Civile di Gela, ha confermato una precedente perizia che affermava l'esistenza di un nesso di casualità tra inquinamento industriale e taluni tipi di malformazioni neonatari riscontrate sui bambini gioresi. In più la relazione dei cinque periti dal Tribunale parla di disastro ambientale permanente per via del rilevante inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, i cui effetti nocivi giungono all'uomo attraverso la catena alimentare. Per impedire l'aggravamento dei danni e ulteriori rischi alla salute dei gelesi, Fontanella ha chiesto al giudice civile il provvedimento cautelare. L'udienza straordinaria, come dicevamo, è stata fissata per il prossimo 7 ottobre.